Siamo costretti a tornare a denunciare quella che è la situazione degli operatori sociosanitari che nel 2019 parteciparono al concorsone bandito dall'ASL di Terramo come capofila. A distanza di 4 anni questa vicenda ancora non si risolve. La ASL da inizio 2023 ad oggi per sua stessa dichiarazione avrebbe dovuto procedere ad assumere 400 unità di personale, ad oggi ne ha assunte solo 85. È inammissibile che dopo oltre 1400 giorni dalla partecipazione a un concorso alla luce del fabbisogno che noi abbiamo di questo personale all'interno dei nostri presidi la ASL e questo centrodestra continuino a tergiversare, continuino a perdere tempo sulla pelle di tutti i cittadini abruzzesi e soprattutto sulla pelle e la dignità di chi il concorso lo ha vinto è risultato idoneo e ha tutto il diritto di essere assunto. Io chiedo un intervento definitivo e immediato da parte del Presidente Marsilio e dell'Assessore Everì perché si scriva una volta per tutte la parola fine su questa assurda vicenda. Si procede immediatamente alle assunzioni previste per il 2023 e il 2024 altrimenti gli operatori sanitari, i sociosanitari e il sottoscritto torneranno nuovamente a protestare in piazza.